Franco Lanari. Franco Lanari, attraverso i suoi libri e i congressi coordinati da lui, mi ha avvicinato alla medianità ultrafanica di Pietro Ubaldi, lo strumento di La Grande Sintesi. Sempre attento e tenace nella sua ricerca spirituale e viatico per strumenti affettivi e non solo. Credo che la vita di Franco sia tanto lunga quanto l'amore che ha sempre avuto per l'oltre. Grazie Franco.